Enorme che il giorno è la piazza dove si incontrano tutti, di sera è un posto di incontro, di ritrovo e c'è anche il performance in mezzo praticamente, è un theater in the round. Quella si è una besta, è una 500 scusate, penso che fa il gelato, no? Anche, allora le immagini che vedete sulle colonne sono tutti schermi digitali che si cambiano in continuazione, perciò può essere una città, può essere qualsiasi cosa che vogliamo che sia, un programma che va avanti, così lo spazio cambia durante il giorno completamente, da notte, eccetera. È anche coordinato con lo spettacolo, perciò possiamo mettere per esempio un'orchestra di 350 persone attorno, che sembra che sia proprio una sala di concerti e il violinista e pianista al centro, è la musica tutta coordinata, perciò dal punto di vista diciamo tecnologico è una cosa completamente innovativa, con uno spazio che si trasforma in continuazione. sui balconi ci sono diversi bar, tipo campari branded, piuttosto che posti per prendere caffè, tutti i spazi danno al centro, perciò in qualsiasi punto della giornata uno trova qualcosa da fare, su questo campo di donne e anche un po' di entertainment. Allora, credo che a questo punto abbiamo finito...